Sto preparando un protocollo per gli skipper per utilizzare al meglio l'action camera e il telefono durante la regata perché saranno da soli non ci sarà nessuno a fargli video quindi sono gli unici a poter raccontare a poter filmare documentare quello che combineranno durante la regata ci sono semplicissime nozioni per appunto per l'utilizzo della camera cosa dovrebbero raccontare quante volte al giorno dovrebbero catturare dei video. Come è andata la notte Albi? Eh dai quello a te è andata bene è stata bella sportiva. Ho girato un sacco di materiale, hai finito la prima scheda, la backupi, cioè la scarichi e metti l'altra scheda. Andrea e Alberto hanno visto anche gli altri team quanto materiale producono e l'importanza di avere tantissimi video che raccontino tutto il percorso sia appunto del pre regata sia del durante. Ciao! 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 Grazie a tutti.